Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova live reaction Oggi siamo qui con Udinese e Salernitana Una partita veramente essenziale Perché vincendo oggi noi ritorniamo Vincendo oggi ritorniamo a 22 pari a Genova E venezia sempre con una partita in meno ragazzi Rispetto anche a Cagliari e San Pater Già contro Udinese che è una partita veramente complicata Perché l'Udinese sta facendo un campionato super Super perché l'Udinese ha 39 punti con due partite in meno ragazzi Significa che al passo cosa solo è Verona Quindi chapeau all'Udinese E complimenti ai tifosi che comunque hanno una bella tifoseria l'Udinese L'Udinese è una bella tifoseria Comunque partiamo ragazzi, pensiamo a noi testa, cuore E oiù, crediamoci, iscrivetevi al canale che è essenziale L'80% di voi non iscritti, quindi ragazzi iscrivetevi Non solamente questo vi chiedo, oiù, l'iscrizione al canale Iscrivetevi al canale, lasciate un like, superiamo i 300 like qui sotto ragazzi Mo' ta simon partita E' veloce chissà Mamma mia E' fuori Oggi sto te lo feo, oggi si sta facendo veramente mettere a paura E' già la seconda volta E' veloce, i nostri diventari sono lenti Subiamo parecchio te lo feo Si distrutto da sta zitta, annaggia miseria Ma' l'Udinese è pericolosissima Guarda tecnica di fatto Fazio, Fazio Stai sangerando Fazio Fai il tuo, basta, basta Oggi però No, no, no Che si è mangiato, chiamber Non ci credo, iu Non ci credo Non ci credo Era perfetto, iu Era una palla perfetta Sulla testa, parola all'ultimo secondo e primo tempo Iu, sulla testa la posizione Gran posizione di Ribery Andava in vantaggio qua, iu Mamma mia Non ci credo Comunque iu finisce il primo tempo Unica occasione questa per noi L'Udinese ha avuto un paio di occasioni Ma manco l'Udinese niente di chi I ragazzi Stanno giocando meglio all'Udinese Ma perché noi ragazzi senza Juric Non stiamo giocando Non stiamo giocando Non riusciamo a lanciare la palla avanti Rasutera non riusciamo a giocare Quindi non stiamo giocando L'Udinese sta giocando un pochettino di più 1-0 ragazzi È una partita fattiva Perché l'Udinese ha delle assenze importanti E si sta avvenendo in mezzo al campo E dobbiamo fare di più noi Perché la partita si può portare a casa Peccato per questa occasione Ero un'occasione importantissima A fine primo tempo Ci vediamo al secondo tempo Iscrivetevi al canale che siete insieme Ragazzi Dai Udinese Credita che sta e crediamoci Peccato però Mamma mia Ragazzi appena iniziato questo Secondo tempo Ci vuole sostanza Io ci vuole sostanza in mezzo al campo Per andare a vincere questa partita Che è possibile Abbiamo mangiato un gol Importante A fine primo tempo Ghiomber Occasione buonissima Sprecata Adesso sostanza Perché ragazzi I tre punti oggi sono essenziali Quindi iscrivetevi al canale Ragazzi Dobbiamo raggiungere 10.000 iscritti a breve Quindi iscrivetevi E lasciate un like ragazzi Ma vediamo le occasioni importanti Del secondo tempo Fatti Compatti Come cazzo fai? Ma come fai? Ma come fai? Ma come fai? Infatti vediamo che La fraccia È la fraccia centrale Quindi Hai visto? L'hai visto? Tire Tire Come vede? Dai Ha un tiro È buono però È buono Ma si poteva fare Molto molto meglio qua Dai in porta Mangia della porta Entra in porta Oh Ammonissimo Ma lo deve munire Ma devi ammonire Ma entro Hai visto come entrata dietro Ma è munizione Ma è munizione Devo giocare da dietro In questo modo Mamma mia Delofeu E che sta facendo Karate Kid Delofeu Aiuto È poco da fare Siamo una squadra Che non sta giocando Manca giurice lì E tutta la squadra è fuori Non capisco Nicola Perché non cambia qualcosa Perché così ragazzi Non riusciremo mai ad avanzare Davanti è totalmente scoperta Questa squadra Vaiù entrano Michele e Cassano Se esce Cullibari e Ribery Cambi giusti I cullibari Oggi non l'ho visto grande in forma Ragazzi Penso la peggior partita Probabilmente la sua Entra Michele Speriamo un bel gol di Michele Lo stiamo chiamando da tempo Speriamo oggi Possa finalmente Fare un bel golletto Dai Voglio 20 minuti No ma perché Non c'è Ma perché La mette fuori Che stanno a me Per forza Manca da 10 minuti Non c'è Ma che te Gira Grazie Dai È toccato Prima il corpo Non è niente Non è niente Non è niente Volevamo rigore Su Ranieri Ma io mi ha toccato Prima il corpo La palla Ha staccato la mano Proprio in quel momento Ha staccato la mano Però è fortuna Ha toccato prima il corpo E quindi non è rigore Quando è così ragazzi Ma che buono Ma che buono Ma che buono Sta zitto Sta zitto Non ci credo 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 Quale Pallo Palo Glamoroso Non ci voglio Credere Non ci posso Credere Non ci posso Credere Pallo Ballo Palo Glamoroso E poi Pazzo Non ci ha Fatto niente O Morti Tutta la partita Due occasioni Clamorose Ma abbiamo Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Sepe se però io che punizione abbattute lo feo che punizione abbattute lo feo no è buona storia toccata c'era giusto giusto se voglio pericolosissima pericolosissima sta posizione meno male meno male posizione e lo deve abbonire qua vogliamo dire scontropiede per la serenitana scoperti akʻon oh oh c'è lì mi dovete guardare negli occhi, mi dovete guardare negli occhi, Salerno, evviva, evviva, siamo vivi, mi dovete guardare negli occhi, mi dovete guardare, mi dovete guardare negli occhi, e anche oggi siamo in lacrime, e siamo in lacrime anche oggi, non ci credo, 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 Non mi dire che è fuorigioco Non mi dire che è fuorigioco Non mi dite che è fuorigioco Vi prego Vi prego Vi prego Vi prego Vi prego Al canale essenziale Dai Waiu Dai Waiu Sì È gol Non ci credo Non ci credo Dai è finita Oh è finita Fischia Iscrivetevi al canale voi live Importantissimo Oh è finita Monito Verdi Fischia Fallo per noi Non ci credo io come l'abbiamo presa 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 Dai Waiu Dai 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 Waiu Iscrivetevi al canale Waiu Iscrivetevi al canale Siamo vivi Siamo ancora vivi Pensavate fossero vivi a settembre Siamo ancora vivi Siamo ancora vivi Dai Waiu Fischia Novantasera Novantasera Ho 3 minuti recupero Sì 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 Siamo vivi Siamo vivi Chi è che parla Chi è che parla Fatemi chi è che parla Adesso Mi dovete dire chi è che parla Mi dovete dire chi è che parla Adesso ditemi chi è che parla Ditemi chi è che parla Scrivetemi la serie Waiu Siamo a 22 Pari Genoa E Venezia Abbiamo ancora una partita in meno in casa Con Venezia da recuperare La prossima Domenica con la Fiorentina Ma oggi una vittoria incredibile Incredibile Allora l'Udinese Complimenti all'Udinese Vaiu Perché ha giocato importante Ha fatto una buona partita Non voglio sminuire la partita L'Udinese Perché ha fatto una buona partita E complimenti anche ai tifosi Però Vaiu Abbiamo due occasioni importanti Uno con Ghiomber Il palo di Michel Ma le partite si vincono in questo modo Al novantatresimo Verdi Non ho più voce Vaiu Ci dobbiamo credere Ci dobbiamo credere Testa domenica Vaiu E forza sanitaria Iscrivetevi a questo canale Dai Dai Ciao Vaiu